La Fondazione GISE è uno strumento irrinunciabile per la società scientifica attraverso la quale, essendo questa una fondazione ONLUS, si promuove la ricerca scientifica, che è l'obiettivo principale, la mission prima della Fondazione GISE e quindi dà la possibilità a tutto quello che è il grande mondo della rete dei laboratori, del network dei laboratori italiani GISE, di poter contribuire allo sviluppo della ricerca. Parallelamente a questo, uno dei compiti per cui istituzionalmente è nata la Fondazione è l'attività formativa, che si esplica attraverso la realizzazione di un master di secondo livello con riconoscimento universitario della durata di un anno attraverso il quale la comunità scientifica dei colleghi più giovani può accedere a un titolo formativo riconosciuto a livello universitario, dove acquisisce quelle che sono le tecniche basilari ed avanzate dell'interventistica strutturale coronarica. A fianco di queste due principali attività, l'altra attività che si sta via via sviluppando è quella della cooperazione internazionale. Qui sia la cooperazione nell'ambito dei paesi che chiedono l'aiuto alle nostre associazioni scientifiche, sia per quanto riguarda gli aspetti formativi di colleghi stranieri che vogliono frequentare i nostri laboratori, che vogliono accedere a quello che è il nostro mondo, la nostra cultura e alla nostra professionalità possono farlo.